Sei fuori regola col parcheggio? Con il nuovo codice fuori orario puoi pagare subito la penale e il tempo di sosta irregolare al parcometro. E sei ancora in tempo per l'appuntamento con la tua ragazza? Sì, ma è il suo compleanno! Vai dal fioraio! Troppo tardi? Forse basta il pensiero! No, non ha funzionato. Solo con codice fuori orario sei ancora in tempo. Con le ragazze, no! Grazie a tutti!